ciao a tutti oggi prepareremo il golden milk o latte d'oro il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa gli ingredienti per una tazza sono latte di riso a temperatura ambiente miele olio di riso o olio extravergine di oliva pasta di curcuma e un pizzico di cannella diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta versando all'interno del boccale il latte di riso e lo facciamo scaldare per 5 minuti a 90 gradi velocità 1 aggiungere l'olio la cannella in polvere il miele e la pasta di curcuma azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 3 il golden milk o latte d'oro è pronto serviamolo subito golden milk o latte d'oro si consiglia l'assunzione a colazione è ideale come antinfiammatorio naturale ed è un ottimo energizzante grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti Grazie.